distritto 60 bilancio vaccini si sta procedendo speditamente alla somministrazione alle fasce fragili dal personale scolastico dopo aver concluso le operazioni per gli over 80 premia la professionalità e l'abnegazione del personale tutto impegnato con il coordinamento del dottore coletta e di gerardo barba mentre annuncia l'imminente apertura di un terzo punto vaccinale il sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato fa un primo bilancio e ne approfitta anche per chiarire la faccenda dei cosiddetti panchinari del vaccino. Ordinatamente c'è stata soltanto una fase qualche giorno fa dove i cosiddetti riservisti cioè coloro che vanno dinanzi al punto vaccinale senza essere prenotati in attesa di poter fare il vaccino in virtù delle dosi che avanzano avevano generato un po' di confusione poi c'è stata una nota del direttore sanitario di distretto territoriale il dottore Tramontano insieme a me dove ha specificato che coloro che possono far questo perché si può fare rispetto alle dosi vaccinali che avanzano per le persone normalmente prenotate sono soltanto per coloro che sono comunque registrati in piattaforma soggetti alle categorie autorizzabili quindi non chiunque sono i soggetti fragili i soggetti che sono in una determinata fascia di età e così via. Quindi tranne questa fase qui poi tutto il resto è proceduto normalmente. Non so dire il numero esatto e non vorrei dare numeri impropri ma secondo un calcolo approssimativo fattomi dal responsabile della commissione sanità del dottore Stile dovremmo essere intorno alle 4.000 unità vaccinate o poco meno il che rispetto anche ad alcuni comuni a noi vicini è un'ottima percentuale. Ricordiamo che Nocera ha avuto da subito due punti di vaccinazione adesso ne parte un terzo. I due punti di vaccinazione sono quello dell'ospedale per gli ultraottantenni e poi il liceo scientifico sensale dove è andato prima il personale delle scuole poi il personale dei comuni del distretto cioè personale comunale protezione civile polizia municipale e adesso anche iniziano anche gli ultrasettantenni quindi sotto gli 80 anni e sopra i 70. Sia lì sia per categorie dedicate ancora all'ospedale Umberto I. Quindi questi due punti vaccinali hanno funzionato bene. Io ringrazio del lavoro il direttore del distretto sanitario il dottore Colette e il dottore Celentano che ci stanno mettendo insomma un grande lavoro in questo un grande grande lavoro tenendo a bada anche un po' la confusione che si stava generando per un'ansia alla vaccinazione. Quello che dobbiamo sperare è che non si interrompano i flussi dei vaccini perché se viene meno la materia prima non si può fare la vaccinazione. E beh i vaccini sono oramai con tutta evidenza io penso di averlo scritto e detto con diverse settimane di anticipo scrissi un commento in tal senso che l'unico rimedio per uscire da questo tunnel è una vaccinazione che però dovrebbe essere fatta alla israeliana o all'inglese cioè non come la stiamo facendo noi all'europea perché non regge il meccanismo cioè se la vaccinazione è centellinata e tardiva si dà purtroppo tutto il tempo alle varianti virali di svilupparsi con una conseguente imprevedibilità dell'efficacia della vaccinazione sulle varianti nel tempo. Quindi bisogna assolutamente recuperare il tempo perduto che è stato troppo ed è stato male. Io sono tra coloro non sono tra quelli che nella vita è corso a fare sempre ogni anno il vaccino anti influenzale io non l'ho mai fatto ma questo lo farò perché la partita in gioco è troppo importante. Lo è a titolo personale ed individuale io sono con tutta evidenza appartenente ad una fascia di popolazione a rischio perché sono un sovrappeso un evidente sovrappeso e quindi tra quelli classificate dal ministero della sanità a categoria a rischio e lo sono diciamo un'opportunità il vaccino su scala generale perché se questo meccanismo non si disinnesca in maniera drastica e immediata dicevamo prima c'è il rischio che il sovrapporsi continuo di varianti virali inneschi un meccanismo infernale dal quale rischiamo di non venire più fuori nel corso del tempo quindi la vaccinazione questa vaccinazione è assolutamente necessaria